Ragazzi, oggi video alla... in realtà questo è un video che avevo già fatto in precedenza ma lo riproporiamo perché signori, se faccio ancora... oggi non me la sento di fare Sonic Generations quindi direi di fare un bel video così a casetto, Wonders of Street View un video che avevo già fatto però dai, lo riproporiamo perché ho visto che questo sito lo hanno aggiornato allora, intanto, il primo posto che ci hanno proposto è un sito di noenil.fan e ci sono un sacco di cose in questo sito una di queste è proprio Wonders of Street View e ci hanno dato il luogo d'origine del Banana Split bello, poi abbiamo... ah, qua possiamo venire portati dai cavalli bello, poi abbiamo Waterfall High in Monaco di Bavaria Monaco di Bavaria, ma... wow, ragazzi stiamo esplorando, stiamo esplorando le fitte caverne mo, mo siamo... ragazzi... puoi fare... no, finisce qua... rip finisce qua e sta diventando tutto... vabbò... poi... primo... ma che cacchio... vabbò... una cattedrale brasiliana signore e signori sembra qualche luogo di Minecraft va bene, basta... una cattedrale... una tazza da tè ragazzi... la tazza da tè più grande al mondo... interessante... wow, bello... poi... sono delle case a cubo... sono delle case a cubo... ma ci sono persone che effettivamente abitano in queste case a cubo... sono semplicemente... sono un'attrazione... cioè... vabbò... Tommy la tartaruga... uh... Tommy... mi ricorda tanto il coniglio... rosa... tipo nelle... tipo nelle colline del Piemonte... però bello... ciao Tommy... van lungo... è scomparso il van... basta... vabbò... mighty Joe... uh... abbiamo... mighty Joe... eh... no... è scomparso mighty... no... c'è... questo c'è... allora... ciao il mio nome è mighty Joe... eh... non... non leggo niente... ok... questa casa... la Justice League... e ci sono... ma è bellissimo... ma... cos'è sto posto eh... cioè... ma... ma chi ha deciso di farlo... qua... già... basta... per quanto sembri... mi sembra molto... no... basta... è una chiesa sott'acqua la chiesa questo è una chiesa si trova ragazzi in Sud Tirol ragazzi questa è la terra di Tiar vuol dire che Tiar e Saptor probabilmente se la va a vedere questa chiesa sott'acqua Sud Tirol benvenuto è Egg Building è un ok House MacDonald è un MacDonald però è una casa è scomparso vabbò Valden Sè no, non ho capito questo è l'Alien Center esploriamolo un pochettino ok ragazzi binocoli giganti basta sono dei binocoli giganti mi fanno il saluto ma grazie quello che sta ma questo sta indossando la maglia dell'Atalanta vabbò huge bello questo bella sta idea del termometro tipo gra è scomparso ma Mami's Cupboard ok potato hotel cos'è sta cos'è sta cosa è un hotel a patata ok sono entrato nel Kennedy Space Center sono entrato in un in una stazione spaziale cup e noodle come si come si può andare a vedere questo è il museo dei noodle non sto scherzando possiamo andare a vedere il museo ma se possiamo andare a vedere gli altri musei tipo ma ma è bellissimo questo mi ricordo sto pulcino me lo ricordo una pubblicità bellissima tipo quelle che reagiva a Favij ok posso ritare meglio sled dogs o poi i cani no 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 giant food i giganti esistono uh siamo qua siamo in Lazio c'è il come si chiama risto aereo nemmeno una casa è un è un ristorante e c'è un aereo oh no questo mi manderà in un trip mentale no questo no non lo faccio young shuoka oddio no uh il corn maze posso andare al corn maze bellissimo monasterio tiberiano ci sono delle pecore non so se sono o pecore o capre sembrano più pecore si sono delle pecore sono delle pecore e bello ah qua siamo in lombardia e c'è un dinosauro c'è un dinosauro ok baracko blama plaza ok oh che paura big apple vabbò oh no qua qua stanno dentro la casa blanca la casa blanca la casa blanca vabbò uè ragazzi stiamo meravigliando la casa bianca ok siamo pronti per andare in sala del presidente ed ucciderlo no 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 basta the good bel marketing di un allian center il pittore che l'abbiamo perso rip pittore e l'abbiamo perso vabbò the captive non ho capito cosa dovrebbe significare ma vabbò stonehenge ragazzi siamo siamo su stonehenge ok ma che impressione mio dio le strade queste sono le strade di napoli questa è una nave naufragata il museo delle lamborghini ah vabbò ma questa è normale vabbò io ho qui che vedo le tasse che devo pagare minion home ma quanto è corso ma mio dio quanto fa paura a sto posto se c'è il trattamento proprio trovi gli effettivi minion tipo con il coltellino lo sapete che ci sono stato ad etna tipo ottobre 2022 ci sono stato ad etna e ora abbiamo un lago di lava è vero questo è lo sfondo di windows 6p ok no ma mannequin party è un party fatto di manichini ci è io mi ricordo intanto attivo un attimo la luce io mi ricordo tipo la nazionale portoghese che tipo una volta fece la mannequin challenge però arco con delle corne ok non ah ti immagini se è scomparso no è scomparso no rip e vabbò king kong ah vabbò è fatto è un museo questo ci sta un effettivo alligatore ma 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 sono scomparse le però abbiamo due due membri di una gang sinkhole abbiamo quanto è profondo mio dio casa scarpa ok questo è l'ultimo lockbuster ok ci sono ci sono degli snack e c'è c'è il polo sud ragazzi questo è il polo sud è un treno quello testa del leone ok abbiamo la pagani sempre auto noi auto cioè direttamente tutti possono avere king kong noi auto ragazzi questa siamo arrivati alla cima del monte Everest Larry cosa cacchio è questa cosa diagonale ok questo è doctor who l'ho già visti la la orab la oris borea vabbò e qua siamo siamo finiti su una nave da crociera sono ricco un castello di sabbia bello la vendetta di Thor questa è un'attrazione Blue Forest test l'aeroplano del McDonald e qua abbiamo il primo tutto McDonald prima l'aeroplano ma il primo McDonald basket building questo è l'idrante definitivo mi sta sto avendo la claustrofobia caverna di ghiaccio qua c'è l'entrata surfing practice ok di Penny Fart ho capito oh no the fog is coming the fog is coming ragazzi bambino che fluttua ok questo è bellissimo Marvins questo è bellissimo dopo lo devo andare a vedere però questo è bellissimo mi sa che chiuderemo così la puntata un attimo che questo è bellissimo perché c'è vabbò non avrei visto i posti strani su Google Maps noi ci vediamo ciao ciao